Ma qui di senza problemi qui, segneranno certo con questi diri Perdono palla banalmente Round 6 Conquistano una buona punizione, distanza favorevole Punizione da sfruttare per portarsi in vantaggio, potrebbe anche calciare in porta da lì Ha provato Cristiano Ronaldo, anche per lui da lì segnare è impossibile Salgono gli difensori per sfruttare questo corner, può essere l'occasione giusta per il vantaggio Occhio al cross di Nibala Difensore in difficoltà qui, attenzione Intercetta bene il passaggio e non era facile Non c'è pressi, può andare Carmacalla Ha una buona occasione, fallo laterale Regalano palla agli avversari Di Bala Matuidi Pjanic Avanza palla al piede Occhio al pallone per il possibile vantaggio Potevano portarsi in vantaggio, ma l'hanno giocata malissimo Tradito forse dall'eccessiva sicurezza Era convinto di segnare da quella posizione Che errore Siamo nelle battute conclusive del match Ospidi che le provano tutte per difendere questo pareggio fino in fondo Occhio però a non esagerare L'arbitro ha fatto cenno che recupererà tutto il tempo perso Vedremo se manterranno questo atteggiamento fino all'ultimo Di Bala Ha sui piedi il pallone del vantaggio Gol solo sfiorato qui Da apprezzare il gesto tecnico Conclusione potente ma leggermente imprecisa Mamma mia Stava per segnare una rete fantastica Bala che è uscita non di molto Ottimo impressing qui Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria Attenzione pericolo 1-0 dunque raccolgono i frutti Di un'ottima prestazione fin qui Stavano facendo un po' quello che volevano Troppo passivo L'atteggiamento della squadra avversaria Vantaggio direi più che meritato Hanno aperto le barcature con questo gol 1-0 Bene qui il difensore Ha chiuso la linea di passaggio Ha riconquistato palla Avanza verso la porta Brown save Matuiti Tiro respinto Ma la palla è ancora in gioco Pericolo scappato Palla recuperata dal portiere Dopo l'ottimo intervento Può tirare un sospiro di sollievo È stato davvero strepitoso in quell'occasione Cerca di bucare Avere il compagno Di Gaudio Gol dell'Ellas Hanno saputo sfruttare bene Quest'opportunità Sì Ne hanno avute molte Nel corso della gara Hanno pareggiato Dunque 1-1 Gabriel Jesus Provano a apri C'è campo per lui E il portiere ci arriva Una parata dal coefficiente Di difficoltà altissimo La mette in mezzo di bala Il miracolo del portiere Sulla deviazione aerea La parata del portiere Che si riscatta dunque Oh Gli è andata bene Mamma mia Se avessero preso quel gol qui Uh Sarebbe stato il responsabile Numero uno Di bala Alessandro Paolo di bala Ottima qualità Nel possesso Fin qui Occhio a questo lancio Non si passa il tempo Occhio al cross di di bala Intervento providenziale del portiere E l'arbitro dice che può bastare Dopo i primi 45 Un po' di cinque Comincia la seconda frazione di gara. Perdono palla banalmente. Pjanic. Gran pallone di Cristiano. Gabriel Siasus. Gol che arriva a coronamento di un vero e proprio dominio. Questo vantaggio strameritato. Assolutamente Pierre, stavano giocando davvero bene. Mi chiedevo appunto quando è che avrebbero segnato. Il punteggio è cambiato, ora siamo su un risultato di due euro. Attenzione a Cristiano. C'è l'accelerazione sull'out di Bala. Arbitro che fischia il panno. L'arbitro lo richiama ma solo verbalmente. Adesso dovrà stare molto attento. Posizione defilata. Probabile che decida di crossarla nel mezzo. La manda in area. Palla che resta in zona pericolosa. Occhio a Pjanic. Gabriel Siasus. Vediamo cosa fa ora. Gabriel Siasus. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato dai. Capita di sbagliare la colpita però davvero male eh. Il loro prossimo impegno di campionato sarà in casa. E potrete ovviamente seguirlo in diretta. Come sempre su EA Sports. Di Bala. Matuidi. Paolo Di Bala. Pjanic. Si affidano la fitta rete di passaggi. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi nella sua formazione. E secondo me è la scelta giusta. È il momento giusto, Pjanic. Può colpire da lì. Buono il tackle. Ramsey. Se farà mai un pronostico per la prossima gara del Verona. Affronterà l'Udinese nel prossimo incontro di calcio A. Sarà una partita difficile, equilibrata, aperta. Ogni risultato. I mezzi per farla loro dovranno mettercela tutta se vogliono uscire dal campo. Con una vittoria. E possono ripartire. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Ramsey. Hanno segnato. Un gol che prende i loro sforzi. Hanno pressato bene recuperando palla. Sfledito il gol nell'angolo. Meraviglioso. Il potere non ha potuto fare nulla. Imprendibile. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Palla larga. Posizione ideale. Cross in mezzo. Il grov viene intercettabile al portiere. Pjanic. Carvajal. Per questo fallo l'arbitro ferma il gioco. Lascia il campo sostituito Matuidi. Ti è piaciuto Stefano? Davvero buona la sua prestazione oggi. Ha segnato il gol che permette alla sua squadra di condurre la gara. Di Gaudio. Cerca di bucare avendo il compagno. Il direttore di gara concede il vantaggio. E' punizione. Posizione invitante. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. Può cercare direttamente la porta da lì. Buona l'idea. Senza problemi però il portiere. Possibilità di contropiede. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Ne sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Posizione buona per il cross. Di bala. Palo e gol. Palla che è terminata in rete con l'aiuto del palo. Decisiva la deviazione dei lini per trasformare in gol la conclusione del giocatore. E' un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Ottimo l'intervento. Recupera il pallone. Ancora un passaggio perfetto. L'ultimo tocco è il suo. Sarà rimessa laterale. Recupera la palla. Intercettando bene il pallone. I padroni di casa si preparano il camion. E si pierde. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Raffaele Al. E' in buona posizione. Buona lettura dell'azione. Ha intercettato bene il passaggio. Palla girata sulla fascia. Nessun problema per la difesa che recupera. Vada a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo. Sono trascorsi 80 minuti. Ne restano altri 10 per chiudere i tempi regolamentari. Grazie Matteo. Puntuale come sempre. C'è con l'efficace ma concede l'angolo. Esce dal campo tra gli applausi. Davvero una buona prestazione. Prova impeccabile la sua. Potrebbe valergli il premio di migliore in campo. La mette in mezzo di Bala. Pallone gestito male qui. Provano con il pressing. Siamo ormai negli ultimi minuti. Difficile che possano esserci sorprese. Gabriel Jesus può metterla da lì. Ed entra in rete. Gol! Ha segnato sfruttando uno dei primi palloni toccati dal suo ingresso in campo. Hanno messo il punto esclamativo anche in questo finale di gara. Allora è stata una prestazione superba. La grande squadra. Gara che sta per finire. A quanto pare c'è una distanza insormontabile. I tifosi si aspettavano una vittoria. Magari non credevano che sarebbe stato così facile. Il risultato parla chiaro per Luigi. Finora è stata una partita a senso unico. Portiere che sembra davvero tra gli ultimi a rendersi oggi. Grande parata che evita un passivo ancora più pesante alla sua squadra. Interrompe l'azione pericolosa. Ecco Alessandro. Bravissimo qui il difensore che recupera. Ci sono ancora due minuti da giocare. Riconquisterà bene il pallone grazie al pressing. Pjanic. Chiedira. Ci saranno da recuperare tre minuti come mostra la lavagna del quarto uomo. Attenzione a Dybala. Occhio attraversone. Lazovic. Paolo Dybala. Ecco Chiedira. Scivolata, disperata e pericolosa questa. Molto pericolosa. Hai perfettamente ragione Pierre. È arrivata l'ammunizione da parte dell'arbitro. Pensava di averla fatta franca forse. Ma l'arbitro, attento, ha solo concesso il vantaggio. A sfaccio per andare. Chiesney, ma attenzione, balla ancora viva. Finisce la gara. Tutti negli smogliatori.